Certo, allora per quanto riguarda lo sviluppo fondamentalmente dei combustibili alternativi per il miglioramento dell'efficienza in Trentino, diciamo che come centro di ricerca Fiat quello che stiamo cercando di fare appunto in Trentino insieme con il territorio è il fatto di promuovere lo sviluppo di combustibile da rinnovabile partendo da quelle che sono le tecnologie esistenti, ovvero sia il metano il metano già da solo potrebbe dare un contributo nettamente importante in termini di emissioni CO2 ma l'idea era quella di andare oltre, quindi anche sfruttando le peculiarità del territorio in particolare in un territorio del Primiero, diciamo vicino a San Martino di Castrozza si cerca di puntare un'iniziativa molto interessante denominata Oil Free Zone insieme con la Multitility del posto ACSM che punta allo sviluppo del tassello mancante per essere totalmente Oil Free perché hanno già la produzione di energia elettrica da idroelettrico la produzione di calore da cipato di legname con teleriscaldamento ma anche al tassello della mobilità e l'idea è di trasformare un problema in un'opportunità il primo è quello di trasformare i reflizzo tecnici e il rifiuto umido in biogas e in biometano per garantire la mobilità e quindi produzione di biometano per la mobilità pubblica e quindi la possibilità di anche utilizzare per il fornimento di mezzi ma anche nell'ambito dello sviluppo e nell'applicazione agricola e poi la stessa energia elettrica da idroelettrico pensata per produrre eventualmente idrogeno verde da abbinare al metano o meglio ancora al biometano per la tecnologia dell'idrometano che noi riteniamo una tecnologia intermedia ponte verso il futuro quindi in sintesi il motore da combustione interna ha ancora tantissimo da dare e grazie ai combustibili alternativi quali il metano e ancora di più il combustibile rinnovabile permette veramente portare sviluppo di azioni di sistema e sviluppo anche industriale per la filiera corta fondamentalmente e grazie a tutti